Oggi è il 7.200, eccoci qua, questi sono tutti soldi che buttiamo, soldi presi e buttati. Qui c'è una buona parte del debito pubblico che è stato italiano che è stato investito in queste carcasse che adesso fanno questa fine. Vai, vai, vietta. Novità quale sono, Daniele? Stiamo spiegando solo. Bravo, vieni. Dai, giocati. Che serve? Sai che cosa serve? Ah, qui c'è la tastiera che serve. C'è la sua buona, dai, dai. Tu sei? No, ho già sapevo che fare un pelupo. Che sei la seconda buona va, dai, 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 dai. la metà è già cacciata grazie ecco Daniele il rottanatore sempre per i filmati e sposi e stelle radio di città pregio stavo digitando facciamo un baratto la ben la cucchia c'era Rania, la cucchia c'era il va bene, il va bene, il va bene Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.